tenuto conto che il suo governo si regge i suoi voti di una forza politica il cui leader ha mantenuto rapporti pluennali con i mafiosi e che ha tra i suoi soci i fondatori di Marcello Deleuze La ringrazio No, no, perché le ho dato due minuti in più, se vuole concluda concluda, concluda vedo che ci tengono molto che lei vada oltre i due minuti prego, concluda ha dato più di due minuti ad altri, se lei non ci tiene io posso concludere qui Presidente evidentemente non è gradito Natone le assicuro che le ho dato anche lei, poi verificherà, prego concluda 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 va bene concluda vada soprattutto per me a quanto pare noi siamo delle nostre scelte, onorevole Meloni e lei ha scelto da tempo da che parte stare grazie a tutti grazie a tutti